La scorsa legislatura è stata la legislatura dell'austerità, si è chiesto ai paesi di tagliare, si è chiesto ai paesi di intervenire con tagli pesanti e significativi. Non si può chiedere a un paese nel momento nel quale fa i tagli che vengono richiesti, contemporaneamente di fare anche un grande piano di investimenti. Le due cose sono chiaramente in alternativa l'una rispetto all'altra.